non dire al tuo prossimo va e torna te lo darò domani quando hai la cosa con te proverbi 3 28 lo faccio domani era una bella giornata c'era un sole splendente e anche piuttosto caldo per essere una giornata di dicembre e così laura chiese alla mamma se le poteva lavare una giacca il bel tempo le avrebbe favorito l'asciugatura del capo in poche ore la mamma rispose la lavoro domani lo farò domani ho visto le previsioni medio anche domani ci sarà bel tempo l'indomani quando laura si svegliò si accorse che il cielo era coperto il sole non era splendente come le previsioni avevano annunciato il giorno prima e così la mamma non riuscì a lavare la giacca che laura voleva indossare la sera caro amico osiamo spesso rimandare quello che dobbiamo fare oggi lo faccio domani andrò domani che lo dico domani ma dobbiamo imparare che quello che dobbiamo fare oggi va fatto questa storia ci insegna il valore dell'oggi godi del sole di oggi non aspettare che le nuvole domani possono rovinare i tuoi piani la pigrizia ci porta spesso a rimandare il rancore ci fa rimandare il dono e l'orgoglio ci fa rimandare le scuse l'egoismo ci fa rimandare l'essere generoso e la testardaggine ci fa rimandare il cambiamento Cristo non ha rimandato la croce nel tempo giusto si è sacrificato pagando un prezzo altissimo perdonarci perdono dei peccati e la salvezza eterna grazie a tutti